L'allarme c'è, per fortuna siamo tutti allerta, ci siamo attenti, però sono cose che come fai a prevedere queste situazioni. In alcuni sono i chiodi, in alcuni vedono proprio pura barbare. Le esche avvelenate sono indubbiamente barbare, ma purtroppo continuano ad essere presenti nelle aree verdi dell'Aretino e non solo. Basti pensare che negli ultimi anni nella nostra provincia ne sono state segnalate ben 350. Una delle zone più critiche è sicuramente la Marchionna, dove le denunce sono state numerose, ma la situazione sembra iniziare a migliorare. Un contributo fondamentale per debellare nella zona questo problema è stato quello di Ira, un pastore belga addestrato alla ricerca di esche avvelenate. È il primo cane in Toscana che effettivamente comunque sia attivo, dunque continua a lavorare e non solo. Adesso faremo delle selezioni su dei cuccioli che poi verranno impostati sulla ricerca in superficie e per i cani. Quando comincia ad avvicinarsi all'esca e comincia a sentire l'odore dell'esca comincia a cambiare atteggiamento nella respirazione e nella tensione muscolare. Dal momento in cui arriva praticamente a 10 cm di allesca comincia a rallentare i movimenti, si accerta con l'ultima sniffata che effettivamente sia l'odore che è quello che gli è stato chiesto di cercare di rintracciare. Dopodiché si mette seduta e aspetta che arriva il conduttore che la premia. Il rapporto tra cane e conduttore sono una parte fondamentale. In caso di morte per avvelenamento è fondamentale procedere con accertamenti da un veterinario, per consentire così una mappatura delle zone più pericolose e per poi ripulirle anche grazie a cani speciali come IRA. Se vengono rinvenute le morti che è la causa, è il veleno, noi possiamo fare. Noi come le istituzioni, il comune, il polizio provinciale. Se no è impossibile capire dove e come poter intervenire. Grazie a tutti.